Ma se lei deve prendere una persona per un'ora e non ce l'ha più bisogno, il mini job? Per quello che noi abbiamo sempre detto che il voucher così com'era non andava bene, ma eravamo disponibili a ragionare con il governo a fare delle proposte. Perché? Perché se tu prendi un voucher così com'era e non c'è, quasi, né il giorno, né l'ora, né chi lo usa, e invece se noi avessimo messo esattamente l'ora ed esattamente il giorno, non ci sarebbe stato più il lavoro nero, perché alla persona che mi lavora nel mio... 47 ore alla settimana forse gli devo fare un contratto, no? Certo, gli devo fare un contratto. E allora a quel punto a quella persona gli do i voucher per un'ora, per due ore, per cinque ore, ma indicate e non mi lavora dieci ore e io gli do un voucher e tutte le altre nove ore in nero. Facendo così lo Stato, lo Stato, e l'abbiamo appena detto, ha legalizzato che cosa? L'evasione, ancora una volta.